A Genova dopo la partita in signe si è mostrato ai microfoni oltremodo infastidito, turbato dai cori ancora razzisti contro la città, contro i napoletani. E ha ragione, infatti oggi io sto qui per questo che il football, il calcio, lo sport devono essere innanzitutto legalità, etica, solidarietà, integrazione, è proprio squallido quello che si continua a sentire e vedere in alcuni stati del nostro paese. Adesso noi lo stiamo dicendo da tempo, ma noi rispondiamo sul campo e credo che il Napoli soprattutto nel girone di ritorno ha praticato il miglior calcio, anche superiore alla Juventus. Peccato che non abbiamo cominciato prima perché quest'anno si poteva vincere, però davvero è una squadra che anche in campo è un esempio di sportività, di etica e lo dobbiamo essere tutti, la città, i tifosi, sia quelli che vivono a Napoli che quelli che stanno fuori e sottolineare che invece alcune tifoserie e alcune persone continuano ad avere questo atteggiamento di odio, violenza e discriminazione nei confronti della città di Napoli, dei napoletani e quindi della nostra squadra.